Musica 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 Abbiamo l'Instituto Superiore Monitore, l'Escola Superiore di Economia e Gestione, l'Università Adventista di Moçambique. Queste istitui sono in diversi territori moçambicani, non bisogna già andare all'estranger e adquirire queste formazioni. Qui in Moçambique possiamo adquirire queste formazioni. E è molto semplice. L'Instituto Superiore Monitore abbiamo in Maputo e anche in Mucuba. In Mucuba siamo qui nella provincia della Zambezza. È un distritto che è stato localizzato nella provincia della Zambezza, dopo la città di Clemane. Abbiamo anche l'Escola Superiore di Economia e Gestione. L'Escola Superiore di Economia e Gestione è una delle scuole in cui sta a leccionare in cui sono grandi gestori, grandi economisti e grandi profissionali. E la Università Adventista di Moçambique è una delle scuole in cui è stata già in cui è stata nel mercato. E sta con un grande, grande lavoro, già a formare gestori, grandi profissionali. e in questi tutti. Alla delle scuole in cui è stata, che già ho racconto. Offerece servizi che in cui nessuna delle scuole in cui non vedi a essere che può dare questi servizi, tem servizi come formatori qualificati na area, ofrece livros, ofrece recursos per poter una formazione buona e... è, una formazione buona, che non voglio avere una formazione buona, e ho una buona nuova, ma questa buona nuova non fiqui di fuori, non fiqui già, non perca, non perca questa buona nuova, perché da qui a poco, da qui a poco io vorrei dare questa buona nuova, se você vuole se formare, ma non sape quali sono le discipline, è, come stiamo a parlare di economia, stiamo a parlare di gestione, potete anche pensare che, sei la, ho dovuto inscrivere e fare semplicemente portoguese, e matematica, o portoguese, storia, portoguese, sei la, e altre disciplina. Quindi, fiqui attenti perché io vorrei vi riferi qual è la buona nuova. Ehm... 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 50 vagas per i primo anno ok? basta presentare i documenti exigiti non è? presentare i documenti exigiti pagare la taxa di inscrizione matricularsi e la prima mensalità presentare anche tutto nel registro non è la prima mensalità devi pagare la mensalità per garantire il suo spazio di hospedaggio perché quando pagare la prima mensalità praticamente non c'è come non c'è la che c'è un spazio presentare tutto nel registro non c'è un registro non c'è l'altro non c'è l'altro non c'è l'altro la matematica non c'è l'altro 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 Certa economia che Napoli ha come riserva, certo valore che ha come riserva. Quindi è praticamente per lì. Questo è il nostro programma di oggi, con alcune difficoltà tecniche, ma spero che possano avviare delle informazioni che ho disponibilizzato. E volto nella prossima occasione. Io sono Antonio Izaquigioni. Fique bene. Grazie a tutti.